C'è l'interesse delle compagnie low cost come EasyJet e Wizz Air e poi quello di grandi gruppi mondiali a cominciare da Lofthansa e Air France. Su Alitalia, nonostante sia commissariata da mesi, si è scatenato l'appetito del mercato. È la dimostrazione che un operatore aereo che ha il cuore in Italia è importante e può essere remunerativo. La partita andava gestita diversamente, magari già nel 2008. Sono stati buttati 10 anni che sarebbero stati sufficienti per risanare quello che a nostro giudizio rappresenta un pilastro per il nostro paese. Lo è per il turismo, lo è per il made in Italy, lo è per i viaggi degli imprenditori italiani all'estero e lo è per chi vuol venire in Italia a investire. Adesso stiamo regalando un gioiello agli stranieri ed è un gran peccato assistere a questa disfatta, lo dichiara il presidente di un'impresa, Giovanna Ferrara. La partita per il salvataggio della compagnia è ancora del tutto aperta. L'elenco dei possibili candidati si allunga, ma ancora si attendono le offerte. Le scorse settimane i commissari Luigi Gubitosi, Stefano Paleari ed Enrico Laghi, dopo Lufthansa, hanno avuto vari incontri con i potenziali acquirenti che hanno manifestato interesse, da Air France a Delta Airlines fino al fondo americano Cerberus. Nel frattempo la compagnia ha congelato il volo diretto Roma-Pechino. Il collegamento di lungo raggio, inaugurato un anno e mezzo fa sotto la gestione SAI e TAD, infatti presenta orari sfavorevoli che non consentono di reggere la concorrenza degli altri vettori, che godono di slot migliori e rendono quindi la rotta non economicamente sostenibile. Per questo la compagnia, non essendo finora riuscita a ottenere slot migliori da parte delle autorità cinesi, nonostante le richieste reiterate e pressanti, ha deciso ora di sospenderlo, pur essendo aperta a riconsiderare la decisione nel caso in cui la situazione cambi.